Cosa vedete oggi lei per sostenere questa visita e questo evento così importante? Possiamo dire che la presenza è un grande vicendio del governo, alla crescita economica, alla questione economica del paese e anche a quello che sta facendo il canale. Tutte le comune sono occupate di noi, tutta la sanità, tutti i suoi cittadini. E se stiamo parlando particolare all'ambasciatore su tutte quelle attività che sto organizzando, sia dell'accoglienza e grazie anche di questa possibilità di incontro, grazie a tutti. Quale è la mia famiglia? Quale è la mia famiglia? Ieri abbiamo firmato tre accordi molto importanti per la regione, ma credo che sia davvero solo l'inizio della Camera di Commercio della regione Firenze e Giulia ci ha accompagnato con questo viaggio che per noi è molto importante. Quando abbiamo raggiunto che sono un'isio, 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 un'isio. E quando siamo različili da tome, ovo mogla da udorbiti naš Sao Gronica, anche il broj 1, sa qui mi stupi mogli definiti... Poi una settimana scorsa ho messo la prima del momento, la prima del momento, la prima del momento e la prima del momento, e naturalmente devo, che chiaramente porta la prevedenza del governo al tavolo oggi, al tavolo dei datori e di rastrutture, va bene, noi vogliamo parlare anche di riascorti, va bene, con chi dobbiamo parlare? Grazie.